Appendice Lettera di Federico de Roberto a Nera Busta Alla signora Anna Radius via Sante Eufemia II, Milano Catania, 3 maggio 88 Gentilissima signora, la sua graditissima lettera mi giunse con qualche ritardo, essendo stata indirizzata a Palermo invece che a Catania, dove io ho il mio domicilio. Mi vorrà quindi tenere per scusato, se non le ho prima d'ora espresso la mia gratitudine, per le molte cose gentili che ha voluto dirmi a proposito di quell'articoletto. Io sono ben dolente di non aver potuto discorrere di lei e del suo libro più a lungo, come il soggetto avrebbe comportato, ed io sentivo. Ma ho dovuto contenermi nei limiti imposti alla letteratura dal giornalismo quotidiano. Vuol dire che aspetterò con tanta maggiore impazienza un suo nuovo romanzo, che per l'amore dell'arte spero non debba molto tardare. Le spedisco insieme con la presente due esemplari del GDS, giornale di Sicilia, i soli che ho potuto qui trovare. Se le ne occorressero degli altri scriverò a Palermo. Sarà per me un'occasione desiderata di esserle utile. Voglio aggradire, frattanto, gentilissima signora, l'attestato della mia devozione più cordiale. Federico De Roberto Accade assai di rado che una pubblicazione italiana attiri notevolmente l'attenzione del pubblico, perché io possa lasciar passare inosservata in queste rapide rassegne l'opera recente di Nera, quantunque un egregio collaboratore di questo giornale ne abbia parlato per conto suo alcun poco. L'aspetto sotto il quale io intendo di esaminare Lidia non è precisamente identico a quello da cui prendeva le mosse il barbiera. Procurerò, da canto mio, di considerare il nuovo romanzo come una fase dell'evoluzione artistica della giovane scrittrice, e il giornale di Sicilia, del resto, consente ai suoi redattori una benintesa larghezza di opinioni. E chissà se nella larga discussione delle opere dell'ingegno, nel graduale e quotidiano iniziamento del pubblico alle questioni d'arte, non consista appunto il rimedio contro la lamentata stagnazione della nostra produzione letteraria. Bisognerebbe intanto che i critici dessero un esempio col lasciar da parte la compiacente ricerca delle possibili e delle impossibili derivazioni delle opere italiane dalle straniere. Poiché Balzac ha studiato nella sua Eugénie Grandet un tipo di fanciulla borghese, nera avrà commesso un plagio studiando in Teresa un simile tipo. Cherie, di Edmondo de Goncourt, è l'analisi di un carattere di fanciulla aristocratica. Lydia, della nostra autrice, sarà perciò calcata sulla falsariga francese. Argomentazioni simili hanno un valore discutibile, poiché quando pure il soggetto impreso a trattare da uno scrittore fosse, in ogni sua parte, identico a quello trattato da un altro, la differenza dei processi tecnici, della composizione, della fattura, dello stile, basterebbe da sola a costituire una originalità. E quando pure gli stessi processi tecnici fossero comuni, vi può sempre essere qualcosa, un'intenzione, un'intonazione, un sapore speciale, per cui il temperamento differente di ciascun artista si riveli. Ora, nel caso di Nera, il solo punto di contatto che possa stabilirsi fra la sua Lydia e Cherie è questo, che entrambe le roine sono due strane fanciulle cresciute in un ambiente elevato e raffinato, veri fiori da serra calda, belli d'una bellezza artificiale, ed incapaci di resistere alle intemperie del cielo scoperto. Ma l'ambiente in cui le due fanciulle crescono, ma la loro educazione, i casi per cui esse passano, il loro modo di apprenderli, la loro fine, Tutto è perfettamente diverso. Basterà dir questo soltanto, che mentre Cherie muore a 19 anni naturalmente di clorosi, di mancanza d'amore, Lydia si uccide a 33 anni quando un fosco dramma le si annoda d'intorno. Dire che il Goncourt ha descritto prima di Nera la fanciulla aristocratica equivale ad ergere un caso particolare in tipo astratto. Vi sono, nella realtà, delle fanciulle aristocratiche che si chiamano con molti nomi diversi. Non vi è la fanciulla aristocratica, un essere generale, ma riconoscibile ed individualizzabile. Il Goncourt ha analizzata una fanciulla che si chiama Cherie, Nera un'altra che si chiama Lydia. E se è lecito discutere della scelta dell'argomento, quella della scrittrice italiana è più legittimata, poiché si tratta di una donna che studia carattere di donna. Vi è infatti una sessuazione psicologica degli esseri, come ve n'è una fisiologica, e tutto lo studio e tutta l'analisi non riusciranno mai a far cogliere ad un uomo gli aspetti mutabili, reconditi, caratteristici, che sono speciali alla natura muliebre e viceversa. Il Goncourt, nella prefazione del suo romanzo, dice espressamente che egli ha avuto ricorso a confessioni di donne, e non ultimo difetto dell'opera sua è questo mettere assieme una figura con tratti cavati da tante figure diverse. A scrivere il romanzo di una donna, Nera è naturalmente disposta meglio che ogni altro scrittore. Ora, è questione di vedere l'arte che ella pone in opera. Diciamolo subito, l'evoluzione dell'ingegno della scrittrice Lombarda è vicina al suo termine, e da raffrontare Lidia con la Dio o con un nido, si misura tutta la lunga via che ella ha pazientemente percorsa. Dall'arte delicata ma compiacentesi troppo nelle vaporosità oltre reali, nei tipi foggiati un po' di maniera, nell'insistente intervento personale della scrittrice che è nei suoi primi romanzi, a quest'arte più nuda ma più forte, fondata sull'osservazione esaminante tutte le manifestazioni della realtà, procedente più obiettivamente, il progresso è notevolissimo. Parecchi anni or sono, discorrendo dell'autrice, il capoana scriveva «Resta a vedere se queste belle forze, messe al contatto della realtà, resisteranno». Dopo le prove date, saggi di ingegno, esercizi di muscolatura e di scioltezza di mano, si vorrà vedere uscire la nera dal mondo un po' artificiale dove si è compiaciuta finora. Si vorrà vederle aprir la finestra perché in quel suo studiolo entrino e la luce sfacciata delle vie, come ella dice, o il rumore assordante della vita, che purtroppo non somiglia in nulla o assai poco a quello che si sente nel delizioso nido. A contatto della realtà, le forze della scrittrice hanno resistito. Si sono anzi sviluppate di più. Lidia è una figura di carne ed ossa, studiata in ogni suo lato, sorgente viva dal complesso degli atti e dei fatti che l'autrice accumula sapientemente. Guastata da un'educazione falsa per colpa della madre debole ed ignorante e di un vecchio zio troppo compiacente, i suoi capricci sono leggi, le stravaganze di ogni genere approvate. La ricchezza contribuisce ad acuire il gusto di un lusso raffinatamente smodato. Le maniere sciolte, i discorsi liberi, la continua compagnia degli uomini scandalizzano la società, pronta sempre a mostrarsi severa contro chi è senza difesa. Ella rifiuta parecchi matrimoni, non sa amare, né può, immersa com'è in una vita di godimenti e di continuo moto. Si lascia invece corteggiare, rimanendo impassibile in mezzo alle seduzioni e conservando intatto il suo candore di vergine. Io non so quanti fra i nostri scrittori potrebbero superare le difficoltà della composizione del carnet della fanciulla, di quel giornale di memorie che ci fa scendere nel fondo e nel profondo del suo carattere, con note così vere, così umane, volevo dire così femminili. Alla morte della madre, Lydia prova un profondo dolore, ma gli apparati scenici di cui riveste il suo cordoglio la fanno giudicare commediante. Ella ha delle amiche a cui vuol bene, in fondo alla leggerezza della sua indole vi sono degli scatti di bontà e di affetto. Come tutti gli esseri umani, non è né completamente perversa, né perfettamente virtuosa. Le sue amiche l'abbandonano. Eva Seymour per dedicarsi al marito idolatrato, Costanza Geronima per consacrarsi alla vita ascetica. Rimane sola, si accorge che a poco a poco tutti la evitano, ed intanto non può decidersi a mutar vita. L'avvocato Calmi è il solo che le sia rimasto sinceramente amico. Senza sforzo, senza ostentazione, egli è un'eccellente pasta di scettico. Studia Lydia col suo occhio sagace e la giudica qual è. Un essere che vuol sembrare più cattivo di quanto realmente non sia. Ha il buon gusto di dirglielo, di non farle mai la corte, malgrado stiano a lungo insieme, soli, in un'intimità compromettente. Tutta questa parte in cui è analizzata l'anima della fanciulla già donna, la sua irrequietezza, i suoi malesseri, i suoi sconforti, è di una grande bellezza. Bisognerebbe citarne intere pagine per darne un'idea ai lettori. Mi contenterò di questo breve passaggio. Tutte le sere veniva per lei quel momento fatale della solitudine, quando, automa smontato, si lasciava cadere nella poltroncina, con le membra rotte e flosce, la faccia lunga, i muscoli del viso stirati, stanchi. L'ampio letto la chiamava inutilmente. Ella aspirava nell'aria chiusa, mista d'odor di fiori e di sigari, l'ultimo suono che aveva dato apparenza di vita alla sua triste vegetazione. Una poltrona sgualcita, un giornale spiegazzato, un pizzico di cenere in una conchiglia, ecco, tutto ciò che le avanzava della sua giornata. E le voci d'uomo rimaste come un eco nei drappeggi, e talora un'impronta polverosa sul tappeto, non altro. I romanzi di Daudet e di Flaubert, qualche volta anche quelli di Belot, si trascinavano sui mobili, presi, abbandonati, ripresi, avidamente percorsi e poi gettati con immenso sconforto. Quanto amore intorno a lei nei libri, negli oggetti d'arte, nei pensieri e nei sottintesi. Che lungo insistente invito al godere! Tutte le sere, spogliandosi in mezzo alle fotografie di quelle donne belle e amate sotto il baldacchino viola, trattenuto alla tessiera del letto coi nodi azzurri d'amore, davanti allo specchio che rifletteva la sua pallidezza sofferente di vergine di trent'anni, Lidia pensava che nessun uomo l'aveva baciata mai. Tanto compromessa, tanto scettica, tanto iniziata ai misteri della galanteria e così pura che entrando finalmente nel suo letto tremava sempre un poco, rannecchiandosi coi ginocchi dentro la camicia e le mani incrociate sul seno, presa da un brivido. La fatalità vuole che essa finisca per innamorarsi di un miserabile, Kebski, fattole conoscere ad arte da una intrigante, la baronessa von Stern, amante di quell'uomo. Lidia, nella sua ingenuità, non sospetta di nulla, li vede soltanto una volta dopo una specie di dormiveglia, di delizioso torpore, l'una vicino all'altro accanto ad un pianoforte in una scena che è fra le più magistrali del libro. Quando la vigilia del matrimonio Calmi le svela tutto, le fornisce le prove della terribile verità. Lidia si uccide con un elegante revolver, quasi un gingillo, per entrare in quella calma eterna non mai provata sulla terra. Dando uno sguardo d'assieme all'opera di Nera, ciò che si potrebbe rimproverarle è la parte ancora un po' larga che ella fa alla narrazione personale, che è tantomeno efficace dell'obiettiva rappresentazione. Invece di raccontare quel che un personaggio ha fatto, bisognerebbe che il romanziere lo lasciasse agire sotto gli occhi del lettore. Il fatto agito ha un rilievo, una vita, che il fatto raccontato non può conseguire. L'attenzione del lettore è attirata più saldamente, le creature dell'arte escono più forti e più sane. Ma ripeto, il progresso di Nera è anche qui notevole e si può essere profeti a buon patto predicendo che l'ingegno artistico di lei, svolgendosi nella sua fase più completa, ella ci darà un libro dove le ultime tracce della sua personalità saranno scomparse. Meno fondato è l'altro rimprovero che le è stato fatto di una slegatura nell'organismo del suo romanzo. Libri come questi, dove non è propriamente la composizione di un quadro, ma il delineamento di un ritratto, hanno una struttura loro propria. I salti, le digressioni, vi sono necessarie, ed è anzi nella varietà dei momenti nei quali la figura è considerata che essa può prendere consistenza. Le scene della vita elegante, le ricche decorazioni, le conversazioni mondane, quel che si chiama l'ambiente, è riprodotto con molta efficacia. Vi è in tutto una spigliatezza, una sicurezza, una padronanza di sé non molto frequenti tra i nostri scrittori e che più spesso si ammirano nei francesi. E con fine ironia, Nera non fa leggere alla sua eroina romanzi italiani. Ciascun metodo d'arte nasconde una speciale conclusione filosofica. Il fenomeno rettorico è il segno di un fenomeno psicologico, per modo che basta conoscere a quale scuola estetica uno scrittore appartiene per definire il suo concetto etico, l'idea che egli si fa della vita. La scuola del naturalismo conduce ad un concetto pessimista. Non è qui il caso di indagare le ragioni del fatto, basterà accertarlo. Così, Nera, accostandosi al metodo dell'osservazione, non vede più roseo, ha perduto le antiche persuasioni di fede, di contento, di felicità, che una punta di fine umorismo soltanto temperava, per accostarsi alle nere visioni del pessimismo letterario moderno. Ho provato ogni cosa, dice la sua Lidia, perché dovrei rassegnarmi, perché dovrei lottare? Non ho nessun ideale che mi sostenga, non ho nemmeno più la possibilità di godere. E molti anni prima, quando la vita scorreva per lei facile, invidiata, quando la canna di un revolver non la affascinava ancora col suo freddo luccichio, ad un'amica che l'accusava di non comprendere l'amore, ella rispondeva, ma di chi la colpa? Dov'è l'amore? Io non lo conosco. Oh, è proprio vero che per essere felici a questo mondo bisogna essere o una bestia o un Dio. Non sono abbastanza bestia, prendi nota che il mio dolore è questo. Certo, le opinioni che un autore attribuisce ai suoi personaggi non sono da considerarsi come sue proprie, ma la tristezza che ne era amesso in questo libro è grande ed è la stessa, in uno scritto recente, ha confermate le scettiche risultanze del metodo dell'osservazione. Lo scetticismo che ci rimproverate quasi fosse per nostra scelta che siamo scettici, noi lo subiamo fatalmente. Esso è frutto inevitabile dell'osservazione. Esso ha torturata la nostra mente e dilaniati i nostri cuori prima di uscire dalle nostre pagine, dove voi non vedete altro che dell'analisi e dove noi abbiamo messo delle lacrime. Voi ci rimproverate di dipingere il brutto, ma questo brutto allagante e universale colpisce assai più i nostri cuori eccessivamente sensibili di quello che non li colpisca la rara eccezione del bello. E quando siamo battuti, feriti, sofferenti, è in vano che ci venite a chiedere i sorrisi dell'ottimismo. Ottimismo, pessimismo importano del resto fino ad un certo punto. La vita è quella che è. L'artista vive per l'arte ed è l'arte che bisogna domandargli. Federico De Roberto dal giornale di Sicilia del 22 aprile 1888 di Sicilia di Sicilia per l'arrivo di Sicilia della